Mi inaugureremo la panchina rosa a Maioli. Sotto questa panchina c'è una sorpresa che ha fatto Salvatore Amastaglio con le sue mani d'oro perché voleva essere vicino a questa manifestazione e finisce a parte uno marmo che poi ritriva ad essere la storia. Io ringrazio la rappresentanza del gruppo degli amici di Amora, con un gruppo di Maioli fatto di donne e per di donne, veramente con un sistema di vicinanza e un messo in seguito per quello che è questa lotta con tutti e con l'assieme. In particolare a nome proprio dell'amministrazione ma della città di Maioli ringraziamo il dottore Luigi Cremoni, il figlio cristiano, per queste giornate che ci sono in questo territorio come prevenzione per questa lotta a questo mare. veramente noi vi ringraziamo di cuore perché mettete la vostra protezione, il vostro tempo che è una cosa preziosissima al servizio delle donne del nostro territorio. Grazie di cuore dottore e a voi l'onore di scoprire la panchina. Forza dottore, forza dottore, forza dottore. Bellissimo, bravo, bello, bello.